il muscolo si abitua dobbiamo cambiare e chissà se qui qualcuno lo sta facendo con noi so che c'è una ragazza che lo fa è una volta come la mattina ragazzi scrivete chi sta facendo gli esercizi mi abbraccio forte allora allora sta facendo lei insieme a noi a luana affronta si messa a ridere ha scritto ho sentito uno strappo il telefono l'ha sentito lei addosso a lei qualcuno vuole vedere la tua tartaruga cristiano dico voi continuate a seguirci invece invece luciana riccardi scrive basta tartaruga è più figa pancia morbida ma sicuramente lo sappiamo tutti che è una cazzata eh poi dice cosimo per l'età che ha sta proprio proprio al top bravo ma io devo capire chi è questa brava ragazza devo capire una cosa si chiama cozzolino assunta cozzolino assunta si chiama una telefonata e ho staccato eh io pure ma però devo capire una cosa no quando uno scrive per l'età che ha no siccome anche a me ogni tanto me lo scrivo ma mo che vuol dire per l'età che ha che noi abbiamo una certa età 5 anni no io mi riporto bene ok questo penso che sia ok ho capito andiamo ok grazie grazie dai come fa bottiglie You're the one, I'm the one, you're the one, I'm the one, you're the one.